Gli aquilani, le associazioni e i commercianti si sono mobilitati per rendere più bello e soprattutto più addobbato l'albero di Natale allestito dal comune dell'Aquila a Piazza Duomo. Considerato infatti dal popolo del web striminzito, brutto, triste, privo anche di qualsiasi illuminazione dunque inadeguato secondo gli internauti ad una città che deve ripartire dal suo centro storico, questa mattina si sono dati appuntamento. La valanga di polemiche sul web nel tantam generale ha provocato una serie di iniziative a catena per la raccolta di decorazioni che stamani, grazie al Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco che ha messo a disposizione la GRU, sono state installate. Tra i fautori dell'iniziativa, l'associazione Mamme per l'Aquila, alcune attività commerciali del capoluogo, un gruppo di Facebook e l'associazione Rotary Club dell'Aquila, che, grazie anche al sostegno dell'assessore comunale Maurizio Capri, è riuscita a raccogliere tanti addobbi natalizi che decoreranno la bete di Piazza Duomo. È stata una cosa molto bella perché siamo riusciti a costruire un nuovo albero di Natale incontrando, tra l'altro, casualmente, ma è stata una cosa veramente molto bella, i tanti cittadini che hanno risposto all'appello della rete del web che hanno voluto portare un qualcosa. Noi abbiamo cercato di far fare un progetto professionale di illuminazione per esterni, in modo da avere un progetto fatto in assoluta sicurezza, con un albero che sia fatto apposta per resistere alle intemperie e a tutto quello che può essere un albero collocato all'esterno, tra l'altro un albero bellissimo, così grande, e la città, alla fine, avrà il suo albero di Natale, che speriamo davvero possa venire bellissimo.